Una battaglia durata a quattro anni portata avanti a colpi di emendamenti e proposte di legge per tutelare consumatori e produttori del made in Italy. Roberto Ruta ha annunciato così la conclusione del leader della legge che a partire da domani renderà obbligatorie sulle etichette di latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini la provenienza del prodotto. Dovrà essere indicato in maniera chiara e leggibile il nome della nazione in cui è stato munto il latte e quello in cui è stato trasformato. Un passo avanti notevole ha spiegato oggi il senatore del Partito Democratico durante un incontro con i giornalisti che consentirà soprattutto al consumatore di scegliere in modo consapevole i prodotti senza essere ingannato sulla provenienza delle materie prime e dei derivati. La legge ha ottenuto il lascia passare non solo dal Parlamento italiano ma anche dagli appositi organismi europei. Da domani mattina nella piccola e grande distribuzione la dicitura origine del latte Italia potrà essere impressa sulle etichette solo nel caso in cui il latte utilizzato come ingrediente sia stato munto, confezionato e trasformato nel nostro paese. In tutti gli altri casi l'etichetta dovrà indicare il paese dell'Unione Europea per la mungitura e quello della trasformazione del latte. Stesso discorso se il prodotto arriva fuori dall'area Schengen. Dopo un parere contrario dell'Unione inoltre il senato ha accolto un emendamento di ruta che reintroduce l'indicazione in etichetta anche dello stabilimento di produzione o di confezionamento del prodotto lattiero caseario. In questo modo ha sottolineato il senatore si materializza la cosiddetta etichetta narrante unico strumento idoneo a garantire che il rapporto tra allevatori produttori e consumatori sia fondato su trasparenza sicurezza e fiducia. Una battaglia vinta durata quattro anni portata avanti in commissione agricoltura con emendamenti e proposte di legge per tutelare consumatori e produttori del made in Italy. Il nostro paese ha concluso ruta e bene ricordarlo a il primato in Europa per incisività e qualità dei controlli sui prodotti agroalimentari e nel piccolo molise l'industria del latte ha ancora un peso di rilievo nell'economia regionale.